Per quattro scintillanti notti il centro storico di San Ludecio, uno dei borghi più caratteristici dell'entroterra riminese, volgerà lo sguardo al XIX secolo, l'epoca di suo maggior splendore. Giunta la 27esima edizione, torna 800 Festival, quest'anno dedicato alla Belle Epoque. 800 Festival giunge quest'anno alla 27esima edizione, edizione tematica perché quest'anno abbiamo scelto un periodo storico preciso che è quello della Belle Epoque, quindi soprattutto il fine secolo, l'Ottocento, e un riferimento geografico che è la Francia, in particolare Parigi, la Ville Lumière. Quindi l'edizione di quest'anno è costruita prendendo riferimento alla città, alla luce, del progresso, delle arti, per cui avremo proprio dei riferimenti anche alla città di Parigi, quindi il simbolo della Tour Eiffel, il Moulin Rouge, Montmartre con i pittori e i bohemian, Pigale, il quartiere latino con le zone più oscure, più intriganti, il corso, la contrada principale del passeggio, quindi dei Champs-Élysées, la zona del parco e dei divertimenti con il riferimento al Bois de Boulogne, e quindi una zona con un organo meccanico che fa da sottofondo musicale ad una giostra di cavalli autentica, e poi naturalmente la zona del mercato che prosegue da questo luogo di riferimento del Bois de Boulogne, per arrivare a quelli che sono tutti i vari spettacoli, anche questi caratterizzati da questi riferimenti, per cui ad esempio uno sarà il circo, quindi il Nouveau Cirque, però con il riferimento a quello che era il circo di fine ottocento, illustrato da Toulouse-Lautrec. Grazie. Grazie.